La redazione di Florence Multimedia Stefano Sud in direzione Orte I treni a causa di un guasa ad un passaggio a livello nella stazione di Rufina I treni sulla linea Firenze-Pontaseve-Borgo potranno subire ritardi, cancellazioni e variazioni La viabilità cittadina a Firenze inizieranno oggi in Viale Lavagnini i lavori di Publiacqua Ci saranno restrizioni e cambi alla circolazione Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie a tutti!